Bella ragazzi, qui Bluefire con... Con Hunter! Bellissimo! Bellissimo! Che fai come muove la testa! Eh? Dove sei? Perché sei scappato? Bellissimo! Oggi giochiamo a TNT Run Tag, qualcosa del genere, adesso lo vediamo. Entra nel server quello power, questo qua, 5 e 2. 5 e 2. Ah, ok, 3, 2, 1, clicca, clicca, clicca. Perché non riesco a entrare? No, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2. Ci sono entrato! Sì, siamo dentro! Ora mi è crash a Minecraft, vedi che mi esplode tutto il pc. In realtà è facilissimo entrare. Lo so! Ho calcolato la mia connessione, va bello. Perché? Eravamo 24 su 24, ora siamo 21 su 24, che basta. Salta, 10 secondi si inizia. Yeah! Sì. Perché c'è un omino arcobalene? Si è arcobalene, vai così, viva l'italiano. È console boy quel. Cosa nemmo fare? In poche parole non devi essere la TNT, quindi è tipo un ce l'hai. Ma cosa del genere? Sono io la TNT! Devi darla allora. Sì, io l'ho, no, non gliel'ho data! Sì, faci! Ma devo beccarli con la TNT? No, sono io la TNT! Cavolo! Ferma, bambino de' merda! No, devi stare ferma, sta strunza. Oh, Lili de' merda, devi stare ferma. No, non ce la faccio! Devi stare fermo! Vah! Non riesco a peccarla. Porca d'ora. Sì, l'ho preso. No, me l'hanno ridata! Io sono tenetti, ma non riesco a farlo. Anche io! No! No, devi stare fermo, pezzo di merda! Devi stare fermo! Dove sono tutto? Io l'ho data! Via, via, via! 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 Anch'io, sto per esplodere! Sto per esplodere! Io scappo! Non voglio esplodere! Dove siete? No, sto per esplodere! Qua, non c'è l'ho dietro! Sì! No! Sono esploso! Sono vivo! Sono vivo! No, sono morto o sono vivo? Sono morto! Perché sono un'anima? Se stai volando sei morto! No! Proviamo a rifarla e ci vediamo in game di nuovo! Ma sono un'anima con la bussola! È possibile? Sì! È che vuole essere un'anima sperduta! È da pezzo! Come faccio a vedervi? Come faccio a vedervi? Ah, ok, ok, vi vedo! Sono l'anima! Guarda che tanto sono bello! Guarda che sei! Non ti vedo, sono in mezzo! E mi stava chiamando un povero! Ah, eccoti! Ciao! Sei! Le due anime! Ma perché sono esploso? Non avevo nemmeno ingrati NT! Il bello che siamo morti i primi noi due! Ah, bu! Beh, lai ricominciamo! No, 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 no. Ma stavo cantando una canzone di Call of Duty! Ma potevano fare una... Una lobby un po' più grande? No, siamo tutti qua spiaccicati, perché? Non è giusto! Io vi metto qua nell'alancolino! qualsiasi uno con la schiena uguale alla tua ma blu ahahah ahahah blu fratelli siii oh si scappa perchè se non ti annetti via oddio oddio voglio essere trenti corri no devo darla devo darla io scappo io mi vado a mettere nell'angolino della mappa nooo nooo non è giusto siete dei fapponi io sono nell'angolino fai esplodere la tipa come fai a fare esplodere le tipa e leggerla quello che la bomba non la tipa in poche parole è un nuovo tutorial su come fare esplodere le tipa e oggi vi mostro un nascondiglio segreto io sono fermo in un angolino remoto della mappa nessuno mi sta vedendo sono qui insieme a huga e svolto wow una tarcia ma tu mi senti bene? nooo bellissimo questo caricamento oddio mi è passato davanti uno con la pianeta e non mi ha visto sono nell'angolino più remoto della terra e neanche uno mi ha visto no addio aia mi han colpito nooo nooo ma non è giusto ma non è giusto è sbagliatissimo sei vivo? si sono nella grotta messo tipo a comaccio nooo sono io la TNT ti sto osservando distruggi si l'ha colpito scorri forest scappa no dall'altra parte corri salta giù corri farla ricorsa salta bello corri scorri gira a sinistra che non c'è nessuno da sotto da sotto fai l'angolino quale è l'angolino quale è l'angolino è bellissimo sto giochino ecco ti ti stai salvando per il culo mi chiamata fosse uno con la TNT intanto io mi continuo ad andare avanti a coerciato almeno nessuno mi vede siete in 16 16 siamo in 15 si allora sono esplodito no perché mi picchi perché mi picchi fuggi fuggi ti vuole uccidere non ti voglio ce l'hanno con te fuggi 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 corri 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 fuggi corri 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 si sei incastrato ancora dentro il nether lui è girato a sinistra fermati 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 fuggi 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 qua sono un pezzo di lava io ti ho perso no mi voglio metterla sopra sopra come minchia ci arrivo di qua corri bello corri opposition non mi devo incastrare se mi colpisce una tstro ti esplodo quindi non devo guarda lì quei due si stanno continuando no 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 chi ha preso si strada valla via si esplodono è stato bellissimo vederti esplodere si strada sottopoli che bello dai ritorno e per la sua risposta. ritentiamo l'ultima volta se dai come si fa qua? insegnami con l'Aresto vieni qua allora dato il conformamento della crosta terrestre dobbiamo capire che ahahah li abbiamo coinvolti tutti a fare quello che facevamo noi ahahah prima eravamo tutti lì per i cavoli loro come si dice mi vuoi sposare in inglese eh boh mary un coso no è iniziata fuga 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 devo beccare qualcuno devo beccare qualcuno devo beccare qualcuno devo beccare qualcuno no mi hanno preso si l'ho ridata via eh fuga fuga devi stare fermo bimbo merda si glielo ridata corri 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 nasconditi blue fire nasconditi dentro la grotta di merda nasconditi no sono salito in alto io sono dentro una grotta ahahah minchia sembra call of duty tutti i campionati ahahah infatti ma aspetta un attimo ma i sit cosa vuol dire è lui è lui quindi vuol dire che viva l'inglese di di hunter dai così o forse ce l'hai alla fine tipo il ce l'hai si no mi hanno preso nooo non voglio esplodere non mi devi colpire nooo nooo sono morto dimmi che ero la TNT dimmi che ok non avevo la TNT bella tu non mi vedrai mai perchè io sono troppo nascosto eh infatti non ti trovo ecco ti Puzzone ma sei il camperone peggiore del mondo ahahahahah è bellissima sei in un posto dj awesome ti ha colpito ce nemmeno lì a destra no ti ha preso di nuovo ecco io la tieni di cosa mi colpisci no no non posso esplorare sono pronto a preparare l'effetto il tuo sonoro per la tua esplosione no 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 sì sì 2 1 BOOM sarei esploso all'ultimo sastro ciao ci troviamo ma dai vieni in cima al missile che salutiamo dove sei sono qua in cima al missile pronto lo so bene ragazzi dai fantasmagorici perché c'è un tipo delle sono tipo rigato si sei dietro di me ti vedo attraverso tipo passami attraverso bene ragazzi da blue fire e hunter è tutto e lasciate un like bella mi piace bella 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 ciao 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 Grazie per la visione